Grazie a tutti Se comprate due paia vi regaleremo un set di rotelle per andare sul ghiaccio, scalare le montagne e spegnere gli incendi Sono a 150 euro e sarete invidiati da tutti Taccia e rotelle non compresi nel prezzo, non si effettuano rimborsi, uso prolungato può provocare effetti collaterali In questo caso consultate il vostro veterinario Le voglio! Ehi tu, sono uscite le nuove volabassi e non le hai? Comprale a soli 220 euro È una promozione speciale solo per te Cosa spai ti? Cosa spai ti? Cosa spai ti? Cosa spai ti? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.